Hello guys, bentornati qui al mio canale, io come sempre sono il vostro Olimpico 900. Oggi torniamo un po' alle origini di questo canale, infatti andremo a trattare l'argomento Pokémon, un argomento che non trattavo effettivamente da tanto, tanto tempo. Perché torniamo a parlare di Pokémon? Beh, lo saprete sicuramente, è stato rilasciato il trailer di Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, proprio nella giornata di oggi, e quindi ho pensato che fosse giusto fare un video dove appunto vado a spiegare le mie sensazioni a caldo dopo aver visto il trailer e non dopo averlo analizzato a fondo, perché quello sarà in un video dedicato a parte. Perché ho voluto fare però un video a sensazioni a caldo? Perché mi ha lasciato alcune emozioni un po' discostanti, una parte di me era felice e un'altra parte di me lo era un po' meno, e adesso vi andrò a spiegare pian piano tutto quanto. Sappiamo che comunque i due titoli saranno in uscita il 16 di novembre per Nintendo Switch, finalmente arrivano dei giochi Pokémon per Nintendo Switch, ce li avevano annunciati, però non è il gioco che era stato annunciato alle 3, questo qua infatti Let's Go ragazzi sarà a tutti gli effetti uno spin-off della serie principale, non si tratterà di un'ottava generazione, ma sarà, ahimè, e questa è già una parte un po' scostante, un remake di rosso, blu e giallo. Attenzione, qui vorrei scendere un po' le due cose, una parte di me anche qui è contenta e una parte di me lo è un po' meno, ma pian piano adesso ragazzi capirete tutto quanto. Partiamo proprio con la prima cosa che mi ha fatto sia storcere la bocca, ma sia mi ha fatto provare anche un sul-sulto, ovvero il ritorno di nuovo a canto. Io sono un fan sfegadato di canto, è una delle mie regioni preferite, anzi è la mia regione preferita, perché quella qui sono legato maggiormente, perché è iniziato tutto quanto da là, e quindi ogni volta che si torna a giocare in quella regione, diciamo il mio cuore è abbastanza felice. Però è anche vero che per alcuni questo potrebbe essere una frustrazione, perché ogni volta che c'è un lancio di qualche cosa si ritira in mezzo canto, anche con Alola è stato ritirato fuori Pokémon di canto, è stata ritirata fuori, insomma, ecco, è sempre la solita minestra che si ripete, quindi capisco anche che alla lunga effettivamente possa venire un po' a stancare questo aspetto. Però va considerato anche che essendo remake, che comunque questo titolo è pensato anche per gente che non si è mai avvicinata al brand, alla fine è un inizio anche per loro, ed è giusto che inizino da canto, così come abbiamo avuto noi l'occasione 20 anni fa di iniziarlo. E questa cosa secondo me è anche molto molto senso. Un'altra cosa che mi ha fatto veramente gridare al miracolo è il comparto grafico, veramente ben fatto da quello che ho potuto vedere nel trailer, mentre parlo, ragazzi, probabilmente starete vedendo le immagini appunto prese dal trailer. Graficamente è tanta roba, perché comunque su una console di nuova generazione è la prima volta, credo, o meglio, non è la prima volta perché non si tratta di un filone principale, ma di uno spin-off, ma che comunque, insomma, una soluzione grafica così alta, effettivamente credo sia la prima volta che ci venga proposta. Questa è una cosa che mi ha lasciato veramente molto, ma molto entusiasta. Una cosa che invece mi ha fatto storcere un po' la bocca è il sistema di cattura. Perché? Perché fondamentalmente è stato utilizzato lo stesso sistema che utilizza Pokémon Go, e non a caso i due titoli saranno interconnessi. Ecco, questa cosa hanno un po', un po', veramente, se si vuole avvicinare una nuova fetta di pubblico al brand, ecco, forse il sistema di combattimento più classico per catturare Pokémon sarebbe stata la scelta migliore. Lanciare semplicemente le Pokéball attraverso il Joy-Con, ecco, secondo me fa perdere parte dell'esperienza che dovrebbe essere realmente Pokémon. Però queste sono scelte fatte da Game Freak, e quindi per il momento la rispettiamo. Poi vedendo se, andando avanti, provando il titolo con mano, questa scelta effettivamente si rivelerà esatta, oppure si rivelerà essere una sciocchezza. Per il mio modestissimo modo di vedere, le cose sono più indirizzato verso la seconda ipotesi che la prima, perché semplicemente lanciare, ripeto, toglie effettivamente una parte di divertimento al gioco stesso. Le lotte. Per quanto abbiamo visto, veramente poco, alcune scene, alcuni frame, diciamo, delle lotte, sembrano ben fatte, le tecniche sembrano essere realizzate più o meno bene, c'è quel Dragonite con quelli per raggio che non mi ha convinto del tutto guardando bene il trailer, però ci sta, ci sta, e bisogna vedere anche qui come vengono fatte le lotte, come vengono proprio eseguite a livello di gameplay le battaglie. Quali battaglie poi, oltretutto, se ci saranno sempre i soliti allenatori in giro per i percorsi che ci sfideranno, o se soltanto in alcuni posti specifici sarà possibile darsi battaglia. Questo ancora non lo abbiamo capito. Credo e mi auguro fortemente che almeno da parte della battaglia con gli allenatori rimanga come la serie originale, quindi andando in giro per i vari percorsi, incrociando lo sguardo dei vari avversari, automaticamente inizierà la lotta. Già questo sarebbe tantissimo. Altra novità che è trapelata dal trader, ma che comunque già sapevamo, che noi che comunque abbiamo seguito più o meno le vicissitudini che hanno portato al lancio di questi due titoli, è il fatto che i Pokémon saranno visibili direttamente dallo schermo, quindi non ci sarà più il cambio di sceneggiatura dove apparirà il Pokémon, ma proprio lo vedremo lì nell'erba e quindi saremo noi ad avvicinarci alla creatura per poterla catturare. Questa cosa è molto carina, molto simpatica e spero che la tengano da parte anche per le RPG che avevano annunciato per Nintendo Switch e che uscirà comunque nel 2019. Abbiamo altro da dire? Sì, forse la parte più importante, ovvero la trama che ripercorrerà questo spin-off. Credo che andrà a prendere, più o meno, a grosse linee, la trama originale della prima versione di Pokémon, quindi quella di rosso, blu e giallo. Ci sarà qualche modifica, ma questo è inevitabile perché comunque non è un remake vero e proprio, però ecco, magari si ispira a quella storia lì, ma ci saranno qualche variabile e credo, da quanto abbiamo potuto vedere guardando la fine del trailer, che al centro di tutta la storia ci sarà Mewtwo e questa volta farà parte integrante della storia. Non sarà soltanto un contorno della trama che era rosso, blu e giallo, ma farà parte proprio della storia della trama principale e questo me lo auguro fortemente perché merita uno spazio veramente grande questo Pokémon, il primo leggendario degno di nota che abbiamo conosciuto, forse il più famoso e il più potente di tutti quanti. Sto pensando se abbiamo altro da dirci... Facciamo un resoconto finale, ragazzi, se sono contento o meno. Sì, sono contento, probabilmente lo comprerò, probabilmente lo proverò, però sono anche molto impaurito da quelle che sono alcune meccaniche. Ho paura che, finito l'entusiasmo iniziale, ecco, si vada poi verso una parabola discendente alla noia totale e all'abbandono del titolo. Questo non lo so, vedremo poi provandolo e giocandolo. Cosa neanche interessante è che si potrà collaborare con un altro amico a fianco, quindi ci sarà il multiplayer in locale. E questa cosa dovrebbe essere abbastanza, abbastanza interessante. Ma tutto questo staremo a vedere. Detto ciò, amici miei, io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, se siete contenti, se non siete contenti, se non volevate canto, insomma, tutto quello che vi passa per la mente scrivetelo qui sotto nei commenti perché io, come sempre, li leggerò e li commenterò con voi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Hello guys!